Capitano, c'è un soldato. Fammi vedere. Via, cessate il fuoco. Cessate il fuoco. Parola d'ordine. Vincere! Cosa vuoi? Espaggia urgente, dal centro radio. Vieni avanti. Stai attento che sei allo scoperto, ti sparano addosso. E' un'acqua orto. Sei ferito, buona padella? Chi è? C'ha del fegato quel ragazzo, eh? Sì. Cosa suifo è a portassi? Grazie a tutti.